Allora, popolo di YouTube, questo è un video che viene fatto specificatamente per chi mi segue solo da YouTube, non per chi mi segue da Facebook, quindi solo per chi mi segue solo ed esclusivamente da YouTube. Questa è una comunicazione di servizio più che altro importante per chi la guarderà il giorno stesso che esce questo video. Quindi questo video uscirà il 27 di aprile 2020, quindi ha più che altro rilevanza per chi lo guarderà il giorno stesso in cui esce. Vale comunque anche per chi guarda indifferita, quindi per chi lo guarderà a giorni, mesi o anni di distanza, però è più che altro importante per chi lo guarda il giorno stesso. Quindi stasera alle 21 del 27 aprile 2020 nel mio gruppo Facebook verrà fatta una diretta in cui spiegherò che cosa contiene il livello avanzato del mio videocorso dall'approccio al sesso. Quindi stasera esce il livello avanzato del mio videocorso dall'approccio al sesso, fino ad ora c'è il livello base con tutte le varie lezioni che spiegano le varie dinamiche dall'approccio fino al sesso. Il livello avanzato è quello che contiene i video dei miei approcci, approcci reali, ragazze, approcci filmati a telecamera nascosta e a microfono nascosto. Quindi i video dei miei approcci, i video dei miei appuntamenti, con tanto di analisi e commento mio in cui descrivo tutte le varie dinamiche. Quindi questo è ciò che contiene il livello avanzato del mio videocorso. Lo spiegherò stasera in diretta nel mio gruppo Facebook. Quindi spiegherò bene che cosa contiene, spiegherò alcune cose e la cosa per cui, quindi poi c'è il link in descrizione per accedere al gruppo Facebook, perché non lo metto su YouTube questo video. Quindi la diretta verrà fatta solo ed esclusivamente su Facebook, quindi nel mio gruppo Facebook. Link in descrizione perché non verrà fatta su YouTube, perché prima appunto all'inizio della diretta spiegherò un po' che cosa contiene il livello avanzato del corso e poi però vi farò vedere anche un esempio di, quindi proprio lo vedremo nella diretta, vedremo proprio un esempio di un mio approccio filmato a telecamera nascosta di una ragazza, poi non sto a dare troppi dettagli qui, però vi farò già vedere un assaggio di quello che contiene il livello avanzato del corso e per la regolamentazione di YouTube, non posso farlo vedere questa cosa su YouTube. Quindi chi vuole seguire questa cosa lo deve per forza seguire da Facebook, quindi come ho detto c'è il link in descrizione, devi solo cliccare e accedere al gruppo. E come ho detto questo video in realtà è a valenza anche per chi lo guarderà poi indifferita, magari a giorni di distanza, mesi, anni di distanza, perché poi stasera, sempre il 27 aprile 2020, caricherò la diretta che ho fatto su Facebook, la caricherò, penso verrà fatta alle 21, penso verso le 23, mezzanotte, la caricherò anche qua su YouTube in parte, quindi spezzata, la caricherò fino alla parte in cui parlo io, quando poi però inquadro il video dell'approccio filmato a telecamera nascosta, da lì dovrò appunto spezzare il video, quindi quella parte video non sarà accessibile su YouTube, però poi metterò un link in descrizione, quindi nel video che poi uscirà stasera indifferita su YouTube, metterò un link al video completo, quindi sarà possibile poi per chi vorrà rivederlo anche indifferita su una pagina esterna, perché come ho detto questo tipo di video non può essere caricato su YouTube per la regolamentazione di YouTube. Quindi chi vuole seguire in diretta acceda al gruppo Facebook, c'è il link in descrizione, chi vuole continuare a seguire da YouTube stasera, quindi 27 aprile 2020, verrà caricato indifferita il video in parte, però comunque poi ci sarà il link in descrizione per vederlo completo il video.